oggi con noi ci sono anche gli amici della corsica con l'amico marco buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo momento mi trovo all'albe di questo alpeggio era molto utilizzato dai pastori che venivano qua e in estate vi si stanziavano di fatto qui c'è proprio un piccolo paese dietro di me abbiamo il gruppo delle panie e questo è veramente un posto che merita una visita adesso ci stiamo incamminando e ci dirigeremo verso la foce di Mosheta adesso stiamo attraversando una zona che è detta la Tana dell'uomo selvatico e infatti c'è appunto questa leggenda che dice che qui vive o viveva un uomo un uomo appunto selvaggio ci stiamo attraversando un po' di questo momento mi sono state di un'uomo e infatti c'è appunto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.